E martedì mattina invece il Cardinale Arcivescovo ha portato il suo saluto al Congresso Provinciale della CISL, nel corso del quale è stato rinnovato il mandato di segretario ad Alessandro Alberani. Siate fedeli alla vostra grande tradizione umanistico-cristiana, alla visione cristiana della persona e della società, ha detto il Cardinale all'Assemblea. La vostra azione, pur dovendo perseguire finalità specifiche, si colloca dentro al superiore servizio al bene comune ed ogni scelta deve essere valutata anche alla luce delle sue conseguenze sul bene comune. Per questo unite alla giusta consapevolezza della vostra autonomia una profonda amicizia civile con tutte le parti sociali, in vista di quella vita sociale buona che è la dimora degna della persona.